Domani rientra una scuola in presenza 300.000 studenti toscani, soltanto fino alla prima media. In Toscana questo significa riaprire le porte delle scuole a 230.000 studenti delle statali e circa 70.000 delle scuole paritarie, 22.000 ai bambini al nido, 80.000 alla scuola materna, 160.000 alla primaria e circa 33.000 in prima media. Per quanto riguarda il rischio contagio da Covid al momento, il progetto della Regione Scuole Sicure per lo screening di personale e studenti è fermo, perché è rivolto alle scuole superiori che invece andranno avanti con la didattica a distanza, finché la Toscana resterà rossa. Non sono previsti progetti regionali di screening nelle scuole medie inferiori. Domani si rimette in moto il motore della scuola con le sue regole e i suoi meccanismi già testati nei mesi scorsi. Le regole e le modalità per la quarantena, ad esempio, sono già stabilite e restano valide.